Il mio caro amico, Jeremy Chan! Oh no, che felice! Non mi pare vero! Jeremy, welcome back! Grazie. Vedo che c'è... We, che è impazzita in poche parole, sentendo il tuo nome. È emozionatissima, sta tremando. Non ci posso credere! Come, come, tipo... Hai fatto un desiderio, e subito l'uomo, il cielo che ti porta questo desiderio, come nella favola. È bello, è grande, è licco, via tutti. Non ci posso credere! È lui che cercavi? È l'ospite che mi impressiona di più di tutti che ho visto. Devo ammettere che Jeremy Chan ha tutte le qualità che cerco.